Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7. Nuovo sbarco sulle coste del Salento. 23 migranti di nazionalità kurdo-iraniana e kurdo-irachena sono giunti e arriva nei pressi di Santa Maria di Leuca su un motoscafo. I migranti partiti dalla Grecia hanno raggiunto l'Italia dopo un giorno di navigazione. Il viaggio è costato dai 5.000 ai 7.000 euro. Offensiva congiunta di comune e prefettura contro l'occupazione abusiva di alloggi popolari a Lecce. Il primo sfratto è in piazzale Siena, in un'abitazione occupata da un detenuto, condannato per associazione mafiosa. Valga da monito per chi fino ad oggi era certo di avere le spalle coperte, ha commentato il deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno. La Puglia è pronta per un governatore leghista. Lo ha detto il coordinatore regionale Luigi Deramo, che lancia la sfida per le regionali del prossimo anno. Nel centro-sinistra ancora stallo sul nome del presidente uscente Michele Emiliano. Uva da tavola, 60 centesimi ai produttori, ma fino a 6 euro nei supermercati. È scandaloso. Lo sfogo dei produttori d'uva da tavola pugliesi di cui si fa portavoce la CIA Agricoltori Italiani. Sui consumatori la grande distribuzione compie ricarichi che arrivano a 10 volte il prezzo iniziale. Gibo, miglior location d'Italia. Al locale di Santa Maria di Leuca, il premio di Food and Travel. Esclusivo, elegante e straordinario, il Gibo è un tempio di splendore sul Mediterraneo, si legge nelle motivazioni. Battuto il celebre billionaire di Briatore. Altro netto KO per il Lecce, che ha perso in casa dell'Atalanta per 3-1. Ora i giallorossi di Liverani sperano di ritrovare fiducia e gioco grazie alla pausa campionato. Si ritorna in campo il 20 ottobre contro il Milan. Grazie per la visione!